ciao Ilaria finalmente ci siamo collegate dopo un attimo di panico mi hai disturbato mentre prendevo il caffè ecco ti pareva io no io vado ad acqua cosa vuoi ancora non è l'ora dell'aperitivo tra poco va bene dipende da quando finiamo esatto allora perché facciamo questo incontro a distanza su zoom in un momento di relax nel quale dovremmo essere in realtà non ci siamo perché noi siamo sempre attive perché facciamo tutto ciò perché perché abbiamo una sorpresina non mi sono preparata eccomi ecco non potevo mancare questa cosa con Ilaria è chiaro fai la feria io non ce l'ho faccio la seria aspettate che mi preparo allora abbiamo questo super mega incontro perché vogliamo proporvi ovviamente una cosa natalizia che cosa sarà vai la challenge esatto un challenge esattamente un challenge ovviamente natalizio diciamo che intanto l'abbiamo chiamato cartoline d'autore poi vediamo il come lo gli daremo un nome più bello magari intanto sappiate che faremo delle cartoline tessili cartoline che saranno molto particolari perché perché l'autore sarete voi esatto autore non c'è voi protagonisti del gioco esattamente sarà una cosa gratuita e sarà una cosa divertente è nata proprio essere vicine anche se in realtà siamo praticamente molto lontane con carta eh faremo dei piccoli eh incontri eh privatissimi super mega privatissimi assolutamente sì partiremo ovviamente con zoom perché zoom è quello che ci permette di collegarci quindi chi ehm aderirà perché dovrete iscrivervi in modo che io e Ilaria sappiamo quante persone ci sono e organizziamo questi incontri su zoom la prima cosa che dovrete fare quindi adesso metteremo questo piccolo video lo metteremo sui social e sarà ovviamente iscrivervi sotto al post che faremo ehm vi daremo tutte le misure ovviamente quindi daremo tutto quello che è il materiale quello che serve mano a mano ma sappiate che faremo anche un incontro per chi si iscrive ok su zoom di venire no esattamente esatto per chi si iscrive ma certo ma cavallate ma certo ci siamo cavallate ma è normale tanto noi ci cavalliamo sempre quando parliamo no volevo dire che faremo un primo incontro su zoom sempre su zoom ma con tutte quelle che si saranno iscritte in modo che spieghiamo che cos'è questo challenge perché abbiamo anche la possibilità per chi lo vuole giusto Ilaria di scambiare veramente queste cartoline perché se ehm se volete ehm se volete ma non abbiamo spiegato che cos'è il challenge diamo sempre presentato che tu certo yes io volevo mantenerlo super segreto invece vedi Ilaria spoilerà subito spoilerà spoilerà no 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 stavo scherzando Ilaria no no diciamolo perché abbiamo detto che sono cartoline tessili quindi già abbiamo dato un primo un primo indizio poi a chi si iscrive daremo tutto il resto o tu vuoi dirlo subito no no io sto mangiando la pallina di Natale non parlo più vabbè ci dovete prendere così eh noi siamo così quindi no dai diciamo diciamo un po un pochino di più queste cartoline avranno una particolarità che sarà vai dai diglielo tu no no io non parlo no Ilaria sei terribile sei no non parlo vabbè allora non allora non lo dico nemmeno io o là ecco dovrete tutte quante iscrivervi sotto ai post che pubblicheremo vi iscrivete tanto la cosa è semplice non dovete preoccuparvi non è una cosa complicata sono cartoline tessili ovviamente vi diamo ogni tanto ti va via la voce ah ecco dicevo giocheremo tanto giocheremo tanto ci divertiremo saranno cose veramente semplici 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 da fare in poco rischio anche il periodo no esattamente il Natale gli addobbi le cose i preparativi quindi non vi preoccupate non vi porterà via chissà quale tempo sarà semplicemente un modo per giocare divertirci creare qualcosa sicuramente di molto bello insieme certamente questo è il nostro così il nostro augurio che volevamo farvi e quindi questa cosa ci piaceva tantissimo farla insieme quindi abbiamo deciso prima di tutto di farvi vedere questo video per così darvi le prime indicazioni poi pubblicheremo per chi si iscrive la data esatta nella quale ci troverete sempre su zoom e vi daremo tutte le spiegazioni proprio tecniche e magari vediamo poi faremo qualche video insomma ci sarà da divertirsi soprattutto ripeto con una cosa simpatica piccola da fare e che pensiamo possa essere gradita a tutte voi che ci seguite assolutamente bene ecco vi invitiamo a iscrivervi a lasciare un messaggio arrivato alzare la manina e dire io ci sono sì esatto esatto la prima riunione che sarà brevissimo è assolutamente sì 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 l'aria sì breve breve perché ripeto vi diamo proprio giusto due o tre giorni per pensarci ma non è che ci dovete pensare più di tanto vi iscrivete e basta facciamo prima no no siamo siamo sicure che vi iscriverete in tante assolutamente bene salutiamo mail sì assolutamente e siamo pronte insomma a partire a diverterci insieme bene allora ciao a tutte e iscrivetevi ciao bacioni a tutte ciao ciao ciao